Ciao, sono Luca Bove, mi occupo di SEO dal 2000 e dal 2007 mi sono specializzato in local search. All'SMXL parlerò di local search. Il mondo del search marketing sta diventando sempre più complesso e sempre più specifico, quindi non esistono delle regole, delle tattiche, delle strategie uguali per tutti i settori mercologici. Ognuno ha le sue peculiarità. In particolare c'è tutto il mondo delle aziende locali, quelli che gli americani chiamano brick and mortar, che ha le proprie specificità. Hanno bisogno di portare clienti in negozio. Netcom, ad esempio, nell'ultimo e-commerce forum diceva che l'e-commerce sta crescendo tantissimo, facendo cento l'intera quota del retail, l'e-commerce va al 5%. Questo significa che il 95% degli acquisti avvengono comunque offline nei negozi tradizionali. Per cui le attività locale hanno bisogno di costruire delle strategie e delle tattiche per portare dall'online clienti comunque all'offline, che entrano nel negozio e che comprino. E quindi io parlerò proprio di queste strategie, quindi come sfruttare in particolare tutti i sistemi di local search, Google My Business, Apple, eccetera. E quindi darò dei metodi, delle attività, dei sistemi, delle strategie per ottimizzare questo processo, quindi portare il cliente in negozio che acquistino. Detto questo ci vediamo all'SMXL. A presto, ciao ciao!